Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube, oggi ci vediamo in questo upload serale, di fatti avevo fiutato la possibilità che oggi poteva uscire la patch e quindi ho voluto riservare appunto il video di oggi a proposito dell'aggiornamento che è stato rilasciato. Aggiornamento che secondo me, opinione personale, è un qualcosa di catastrofico perché il doppio passo ha fatto una fine peggiore dell'elastico quindi praticamente dobbiamo dimenticarcelo totalmente ed era una delle poche armi rimaste per poter andare a scardinare la CPU avversaria. In tanti adesso mi avete chiesto. Bene, quindi che cos'è questa? La fine dei giocatori come Ronaldo, Mbappé eccetera eccetera e il ritorno di Eusebio, Beyeder, Dalgrish, chi che sia? Secondo me è presto per dirlo e comunque una parziale risposta secondo me è no perché comunque andranno tanto i giocatori ampi, quindi che permettono di fare dei movimenti ampi a livello fisico e in più secondo me la quinta skill rimane a maggior ragione più importante della quinta piede debole perché girarsi e calciare con tutti gli autoblock che ci sono quest'anno non è proprio il top del top quindi non è neanche un FIFA 22.0 visto che c'è una maggiore CPU. Io diciamo che ho portato in questo video una serie di esempi, quella che era l'utilità del doppio passo prima della patch, quello che è diventato adesso e quelli che sono possibili diciamo rimedi quindi passiamo subito sulla schermata e andiamo a parlare un attimino prima di quello che è il mio ragionamento sull'argomento perché credo che questa patch risponda a quella che è l'esigenza di livellare ulteriormente quello che è lo skill gap perché in tanti mi avete detto magari sì però era il reale lo spam della finta eccetera eccetera secondo me dobbiamo un attimino avere bene a mente che ci troviamo ragazzi come ho detto oggi in live su un gioco che in quanto tale non è una simulazione ma comunque una grossa componente di arcade quindi come tutti i giochi è chiaro che presenta delle meccaniche più o meno efficaci la cui ripetizione porta a dei risultati solitamente positivi quando la meccanica è quella giusta quindi lamentarsi l'utilizzo del doppio passo spammato in mezzo al campo non ha un grosso senso perché se io faccio un doppio passo con Varano o un doppio passo con Sissoko sono semplicemente sciocco io perché a nulla mi portava quel doppio passo l'utilità del doppio passo era semplicemente questa qui vi porto ad esempio l'azione che ho fatto in qualifica io ultimamente ossia palla così più o meno in questa situazione quindi di giocatore in obliquo per saltare l'uomo e aggredire questa porzione di campo faccio il doppio passo mi busto e arrivo alla conclusione quindi un qualsiasi altro doppio passo fatto in mezzo al campo tanto per non era altro che una semplice memoria muscolare un semplice fare così una finta in mezzo al campo che però non è che aveva questa grossa utilità quindi lamentarsi del fatto che i doppi passi venivano abusati anche con Varano secondo me non ha un grossissimo senso secondo me questo è un aggiornamento che come vi dicevo in precedenza risponde a quelle che sono le esigenze della parte della community che appunto non riuscendo a difendere questa meccanica che secondo me era difendibile per esempio è molto più difendibile il doppio passo rispetto al bridge come andremo a vedere insomma se ne è lamentata il lungo e il largo e questo è il risultato e vi dico sono preoccupato perché al momento con la cpu che c'è con gli autoblock che ci sono e con le risorse che ci sono rimaste per cercare di evitare queste situazioni insomma secondo me non navighiamo in acque tanto buone però come vi dicevo come al solito io cerco di avere sempre un attoggiamento positivo e di trasmetterlo a voi quindi come abbiamo superato tra virgolette il nerf del doppio passo supereremo sicuramente il nerf del doppio passo anche in questo caso e soprattutto dopo il torneo che ci sarà questo fine settimana ufficiale con le finals regionali di torne xbox e playstation da parte di ei avremo una risposta sia a quale può essere magari un meta di attacco quindi aspettatevi lunedì un video in cui analizzeremo una partita del torneo sia a quelli che sono magari gli attaccanti o i giocatori meta perché magari mi è stato detto allora in difesa adesso possono tornare i giocatori più statici no perché i filtranti ci sono chi può magari risentire di questa situazione sono appunto solo ed esclusivamente attaccanti ed esterni però vi dico che al momento conclusioni affrettate non ne voglio trarre al momento voglio sentire qual è anche il vostro parere nei commenti perché è fondamentale lo sapete il dibattito e andiamo a vedere però quelle che sono le clip che ho preparato vedete qua ho due cartelle una patch e una rimedi quindi per quanto riguarda la patch, la cartella patch vi faccio vedere quello che è stato il cambiamento del doppio passo frontale guardate io qui con Mataus guardate praticamente sembra un bradipo che fa un doppio passo non c'è un'utilità né in termini di speed boost né di altro guardate qua ve lo faccio rivedere guardate Mataus come è rallentato e non ha alcun vantaggio nell'uscita anzi quasi quasi sembra appunto un malus, un deficit andarlo a fare infatti la mia faccia di sotto è molto contrariata ve la faccio vedere sono molto contrariato dopo aver fatto questo doppio passo e questo è solo un esempio abbiamo ad esempio il doppio passo obliquo quello che secondo me è molto molto utile guardate qui che fine ha fatto io costruisco la mia classica azione a scaletta arrivo in questa porzione di campo con Manet per fare il doppio passo e questo è il risultato chiuso, nonostante avevo anche vantaggio praticamente l'utilità è pari a zero andiamo a vedere anche un altro esempio di doppio passo obliquo in questo caso qui ancora con Neymar la palla verso Manet cerco di prendere campo doppio passo fatto con una lentezza veramente veramente disarmante a mio onesto modo di vedere quindi adesso io cerco di andare però anche ad individuare dei rimedi cosa che ho fatto anche durante la live la live di oggi perché è chiaro che bisogna cercare di rimboccarsi le maniche un primo rimedio che insomma conosciamo già tutti può essere quello del bridge quindi la risposta è come facciamo a speedboostarci quando ad esempio siamo in una situazione del genere con il difensore posto alla destra del nostro portatore di palla abbiamo sempre il bridge che è una skill per me rotta se ce n'era una da nerfare era assolutamente questa e non il doppio passo perché questa se fatta col tempo giusto praticamente rompe il difensore che va sistematicamente a voto quindi guardate qua doppio tasto del tiro a giro quindi per me l'r1 per me può essere ma per voi magari può essere l'r2 e vi fa questo movimento qua che vi prende campo facendosi che praticamente il vostro avversario che vi sta marcando rimanga paralizzato andiamo a vedere ancora un'altra situazione da bridge qui con rodrigo difensore alla destra mi spinto busto palla dentro poi per mataos mi libero insomma arrivo al tiro che però viene autobloccato sempre per quanto riguarda il discorso degli autoblock quindi il bridge diciamo è ancora presente e può essere sicuramente una risposta al nerf del doppio passo un'altra risposta a questo nerf per me può essere tranquillamente il reverse elastico una skill che si fa con i giocatori che hanno 5 skill ed è un movimento che parte dalla spalla sinistra del giocatore di 180 gradi ad arrivare alla spalla destra passando dietro le spalle comunque trovate anche il tutorial sul canale e quando diciamo queste eventuali skill saranno effettivamente confermate come le più efficaci magari vi porterò un tutorial fatto bene dove le racchiudiamo però per farvi capire che cos'è il reverse per potervi accentrare credo che sia una skill abbastanza utile vedete per esempio in questa situazione con Neymar vedete reverse 1 reverse 2 mi ero accentrato bene e anzi forse dopo il primo reverse avrei potuto anche fare magari uno scoop turn e provare a calciare in porta vi faccio vedere anche un'altra situazione di reverse che porta ad un ottimo risultato che è addirittura appunto reverse cui andiamo a segnare vedete con Neymar reverse finta di tiro e insomma andiamo a concludere quindi vedete come quando mi trovo in questa posizione obliqua il reverse si fa solo con il piede destro quindi comunque con la spalla destra apposta verso la porta è possibile accentrarsi bene ovviamente nella situazione opposta in teoria bisognerebbe fare l'elastico ma sappiamo che l'elastico è stato un po' nerfato anche se sembra che un pochino l'hanno rivelocizzato così come hanno rivelocizzato forse il drag back vi dico forse perché nella patch queste cose non erano previste quindi non mi sento di darvele come assodate continuiamo a testare nei prossimi giorni e non vorrei che fosse semplicemente un effetto di suggestione un effetto un po' placebo del quale ci siamo convinti oggi quindi questa è un'altra situazione un'altra situazione che possiamo andare a utilizzare tra virgolette in sostituzione nel doppio passo che comunque per me è una skill unica e ne sentiremo tanto risentiremo tanto della sua perdita può essere la finta di tiro fatta con l'L2 che scherzosamente io qui ho chiamato Bucks che è il mio moderatore che la utilizza guardate qui con Manet torno indietro vado a puntare il diretto avversario finta di tiro con l'L2 finta di tiro con l'L2 è saltato l'avversario e sono andato a concludere in porta quindi questa potrebbe essere anche un'altra dinamica abbastanza interessante per andare a saltare la CPU e comunque speedboostarsi fermo restando che rimane ad esempio anche quello che è il discorso relativo all'L1 più forza ovvero speedboost alla Riberoski che trovate sempre nella sezione tutorial del canale quindi diciamo che determinate situazioni diciamo le stiamo già iniziando a individuare ma vi ripeto meta vero e proprio lo andremo a scoprire insieme durante il fine settimana sul quale ci saranno queste finali del torneo le reacteremo insieme in live quindi vi aspetto e poi vi ripeto vi riporterò l'analisi sul canale sia per quanto riguarda il meta sia per quanto riguarda l'evoluzione in termini di calciatori del tipo ritorno a Beglier ritorno a Eusebio eccetera eccetera Cristiano Ronaldo diventa scarso la risposta è assolutamente no quindi non panicate non vedete Ronaldo Bappé eccetera eccetera perché sono comunque dei trattori per quanto riguarda il video raga è tutto immensa amarezza perché come al solito vi assicuro ho fatto il conto sono uscite 9 patch in 3 mesi stiamo giocando praticamente a FIFA 22 ossia totalmente un altro gioco rispetto al quale è uscito dobbiamo reinventarci continuamente ma lo faremo anche questa volta perché the show must go quindi state tranquilli che troveremo il modo di risolvere anche questo nerf al doppio passo io vi saluto vi ricordo di lasciare un like iscrivervi al canale e un commento che stiamo andando una bomba trovate in descrizione tutte le info per le live giornaliere sulla piattaforma viola e nuda ragazzi io vi saluto e vi auguro una buona giornata ciao 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 ciao